La chirurgia minivasiva oggi è una tecnica chirurgica che può essere applicata fondamentalmente alla cura di numerosissime patologie. Si tratta non solo di una tecnica chirurgica ma si tratta anche di una chirurgia di rispetto che dovrebbe essere applicata a tutti e a maggior ragione nelle persone più fragili. Ad esempio nell'ambito della chirurgia addominale è molto diverso prendere un bisturi e avere un accesso con le mani e con lo sguardo all'interno di un addomino di una persona per curarlo quando dall'altra parte è possibile inserire una piccola telecamera grande come una penna BIC e vedere le immagini all'interno proiettate su un monitor e gli strumenti passare attraverso dei piccoli buchini che possono essere o di 5 o di 10 mm. Si chiama chirurgia di rispetto dovrebbe essere applicata a larga scala a volte non lo è di questo ci dispiaciamo e uno degli obiettivi della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute è quello di stimolarne una diffusione.